Ciao! Sapevi che la paura di parlare in una seconda lingua, una lingua straniera, ha anche un nome? In inglese si chiama xenoglosofobia. Adesso, magari in italiano si può tradurre come xenoglosofobia, ma non l'ho mai trotto da nessuna parte, però sì, esiste il termine in inglese. Però non è tanto importante come si chiama o come si può dire in inglese, sino come possiamo superarla. Se ho paura a parlare con la gente quando devo usare l'inglese o una qualsiasi altra lingua, cosa posso fare? Bene, in questo video vedremo quattro soluzioni a questo problema, che è un problema che affligge moltissime persone. Infatti, come ti faccio vedere qua, esiste, come ti dicevo, un vero e proprio termine. La paura di parlare dell'ansietà o la paura di parlare una lingua straniera ha proprio questo nome qua. Allora, saltiamo subito al sodo. La prima forma di superare questa paura, te lo scrivo qua, è preparare discorsi, provo a indovinare, già fatti. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu puoi semplicemente prendere e iniziare a pensare delle situazioni che incontrerai nella vita reale. Ad esempio, cosa succede se devo chiedere le indicazioni per strada a qualcuno? O qualcosa di un po' più pratico, perché ovviamente questa è una forma più turistica di vedere l'inglese. Cosa devo fare se voglio raccontare il mio film preferito a qualcuno? Cosa potrei dire se vorrei raccontare dove vivo, il mio lavoro a qualcuno? Cosa posso dire se voglio raccontare la mia ultima vacanza a qualcuno? Ok? E da lì mi costruisco il mio bel discorso. Se hai un livello medio o medio-alto in inglese, ovviamente lo puoi fare già teoricamente nella tua testa. Se hai un livello più basso, ti puoi far aiutare da vari strumenti, per esempio un traduttore. E inizi a cercare le varie frasi, inizi a costruirle, te le scrivi e te le impari. E le ripeti, le ripeti, le ripeti. Perché questo? Beh, perché ripetere un discorso mille volte fa sì, specialmente se non lo fai solo un giorno, ma lo fai magari diviso in qualche settimana. Quindi ripeti questo discorso nel tempo. Vedremo poi in un altro video perché ripetere nel tempo è come ripetere nel tempo. Però se fai questa cosa, tu assorbirai questo discorso. Adesso sì, è vero, tu non stai imparando l'inglese in maniera perfetta, non puoi parlare di ciò che vuoi, ma solo questo discorso. Ma, questo ha due grandi vantaggi. Uno è appunto perdere la paura, perché ormai questo discorso ce l'hai quasi instaurato, è come se dovesse recitare una poesia o una canzone, ti esce senza pensarci. Quindi ovviamente non lasciamo il tempo alla paura di subentrare dentro di noi, perché? Proprio perché il discorso viene da solo, quindi non possiamo neanche fermare a pensare di avere paura perché già stiamo parlando. E, visto che siamo stati intelligenti e non abbiamo pensato come chiedere indicazioni o cose turistiche, ma abbiamo pensato a temi che probabilmente useremmo nella conversazione. L'ultimo film che abbiamo visto, l'ultima vacanza, cosa faccio nella vita, dove vivo, eccetera. Quindi domande che sono abbastanza frequenti. Secondo, questo è il primo vantaggio, il secondo vantaggio è che anche facendo questo, non solo stiamo imparando questi discorsi a memoria, ma stiamo anche assimilando parte dell'inglese. Sì, perché ovviamente le parole che usiamo in questi discorsi le impariamo. Le strutture che usiamo in questi discorsi le impariamo. Sì, è vero che non stiamo imparando un'inglese generale, stiamo focalizzandoci solo su alcune frasi specifiche, ma comunque stiamo imparando. Ricorda che la cosa sbagliata in generale è studiare la lingua, studiare la grammatica, fare esercizietti, eccetera, liste di parole, coniugazioni di verbi. Questo non serve a nulla. Usare la lingua invece serve. E in questo modo stiamo usando la lingua. In una maniera molto molto ristretta, in un ambito molto specifico, ma la stiamo usando. Quindi comunque stiamo facendo qualcosa di costruttivo. Allora, ti ripeto, il primo grande passo che possiamo fare per eliminare la paura di parlare in inglese è appunto preparare i discorsi già fatti e ovviamente, lo scrivo qua a fianco, ripeterli ancora ed ancora nella nostra mente. Ok? Questo è il primo passo. Seconda cosa che possiamo fare, che si può collegare molto bene con la prima, è semplicemente registrarti. Prova a fare dei discorsi in inglese e registrati. Oh, registrati, dovrebbe essere giusto, non so perché... Ah, me lo traduci in spagnolo. Me lo corregge in spagnolo qui, non c'è nessuna... bisogno di correggerlo. Registrati e questo ti farà permettere, prima di tutto, di fare davvero il primo passo, perché molta gente capisce che questa cosa è importante, che serve, ma non lo fa dopo. Dice, è buona in teoria, ma non lo fa in pratica. Se ti registri, ovviamente, devi dire le cose a voce alta, devi prima di tutto creare i discorsi e devi dirli, e in più devi dirle a voce alta. Quindi già per sé, è come ti posso spiegare, la integrazione perfetta del primo passo. Secondo, offre molti vantaggi. Uno, ci può far sentire la pronuncia, possiamo riascoltare e capire come stiamo parlando. Può farci ascoltare e capire gli errori, magari stiamo saltando delle parole, non pronunciando bene il finale di alcune, eccetera. Quindi già questo è un altro vantaggio. Terzo, si è dimostrato scientificamente che registrarci aiuta molto la nostra memoria. Così, come se poi dopo in qualche momento vogliamo scrivere quello che abbiamo letto, scrivere le informazioni comunque serve. Quindi possiamo mettere qui proprio spaziato, è scrivere le informazioni a mano. Ovviamente la parte importante è registrarsi, però anche scrivere le informazioni a mano è molto utile. Secondo, o terzo scusami, passo. E questo è un passo più mentale, ma è davvero, davvero importante. Prima di dirtelo ti racconto una storia che racconterò anche nel webinar perché è davvero importante. Una volta stavo insegnando matematica a Cambridge in un community college, e stavo spiegando ai miei ragazzi come poter imparare più velocemente, come memorizzare le cose. E stavo dicendo su cosa dovevano concentrarsi usando la parola, te la scrivo qua un secondo, oh, focus. Focus, pronunciata così, come la pronunceremo in italiano. Perché? Perché come una parola che usiamo molto spesso, si usa anche in italiano, uno gli resta la stessa pronuncia in inglese. Non solo non si capisce bene se uno la pronuncia in italiano, ma può suonare un insulto. Infatti c'è un insulto che te lo scrivo qua, che è fuck off, però nel nord d'Inghilterra si pronuncia fuck off, e quindi è molto simile a focus. E molti dei miei studenti si erano messi a ridere, mi avevano poi spiegato che non si può pronunciare così, bisogna pronunciarlo focus, e da lì ho capito sta cosa. Adesso, molte persone in una situazione così si sentono a disagio, hanno vergogna e si sentono male. Pensano che non devono mai più parlare inglese perché non vogliono più esporsi a situazioni del genere. Ok? Vergogna è un limite importante. Ciò che bisogna fare è uno switch mentale. E pensare che quando ci sbagliamo e riceviamo feedback, feedback correzioni, se vogliamo dire in italiano, è positivissimo per noi. Perché quando tu ti sbagli e non ti correggi, probabilmente, sì, magari in qualche momento puoi sentire, come detto, vergogna. Ma quell'errore non lo dimenticherai mai più, ti entrerà nella tua testa come si dice perfettamente. Io in quel momento mi sono messo l'idea con i miei ragazzi, io ho memorizzato sta cosa. Ovviamente faccio sempre questo esempio perché è divertente di focus, perché se uno dice focus suona come un insulto, non è che semplicemente non si capisce. Ma è importantissimo innamorarsi degli errori. Innamorarsi degli errori. Ok, ho scritto male perché è sempre il sbaglio quando devo scrivere queste cose. Allora, fammi prendere un po' l'acqua. E questo è il punto fondamentale. Mi fa sempre ridere che quando devo fare un video faccio sempre mille errori, sia in come parlo, sia in come scrivo. Però questo è buono perché così diamo spazio agli haters, o haters vogliamo dire in italiano, che si divertono a insultare. Quindi, ecco, avete una legge in più per dire che non so parlare manco di italiano. Detto questo, è importantissimo adesso, lasciando stare gli haters che saranno felici di queste cose, parlo alle persone serie adesso, è importantissimo innamorarsi degli errori. Vedi gli errori e le correzioni specialmente che ti danno? Come qualcosa di costruttivo, di positivo. Ogni volta che sbagli, stai imparando. O vedi da quest'altro punto di vista. Se tu quando parli non sbagli mai, vuol dire che stai usando solo cose che già conosci perfettamente. E quindi non sbagli mai, non ti senti mai a disagio, ma non avrai mai correzioni che ti fanno migliorare. Quindi resti sempre lì. Se invece tu inizi a capire che gli errori sono positivi per te e non negativi, beh lì è il momento in cui puoi scalare e diventare davvero bravo nell'inglese o in qualsiasi altra lingua. Perché ovviamente io sto parlando dell'inglese più che altro, perché so che molti di voi vogliono imparare l'inglese, ma questa lezione appunto è sulla xenoglossofobia, quindi la paura o l'ansietà di parlare una lingua straniera. Ok? Questo è il terzo errore. Ti ripeto, preparati i discorsi già fatti, su temi ovviamente utili che utilizzeresti nelle discorsi quotidiani, registrati, se vuoi scriverli anche a mano, innamorati degli errori, e quattro, forse più importante di tutti, cerca un metodo, un corso, uno studio, un qualsiasi cosa che ti faccia parlare dal primo minuto. Moltissima gente odia... Ok, è partito qualche assistente vocale in automatico e mi ha detto qualcosa. Comunque, tornando a noi, senza farci distrarre. Ciò che dobbiamo fare, molta gente odia questo concetto, molta gente vuole iniziare a parlare in inglese, o qualsiasi altra lingua, solo quando è pronta. Ma, quel momento non arriverà mai, non arriverà mai il momento in cui ti puoi dire adesso mi sento pronto, adesso inizio a parlare l'inglese, non sbaglierò mai. No, se tu aspetti il momento di essere pronto, non inizierai mai. Ho dato un colpo al microfono, spero che non si sia sentito un rumore super forte. Comunque, se aspetti di parlare l'inglese quando sei pronto, non inizierai mai. Devi iniziare a parlare il prima possibile. Quando è sempre difficile per la gente iniziare a parlare l'inglese, a parte per le persone che sono estremamente esuberante, extrovertite, adesso stavo dicendo qualcosa in spagnolo, mi sono confuso, ogni tanto mi confondo con le altre lingue, il francese o l'inglese, capita. Comunque, se sei una persona molto esuberante, magari non è il tuo problema, però moltissime persone non vogliono iniziare a parlare l'inglese. Quindi ciò che dobbiamo fare è prendere un metodo che ci possa far iniziare a parlare dal primo minuto e ci faccia parlare tutto il tempo. Sono difficilissimi da trovare e ancora più difficili sono metodi che ci fanno parlare tutto il tempo e ci diano correzioni costanti. Anche un professore madrelingua spesso fa fatica a fare queste cose perché risulta scomodo per le persone correggerti. Anche se è un professore che tu paghi per correggere perché fermarti mentre stai parlando e dirti aspetta, questa cosa non la puoi dire così, la devi dire cos'ha, suona maleducato e molte persone non lo vogliono fare. Quindi è la parte più complicata questo, per questo che ho messo come punto numero 4. Si può fare e se vuoi sapere come si può fare ti posso anche dare una dimostrazione pratica. Non qui perché siamo già a 12 minuti di video, lo voglio terminare presto per non annoiarti troppo ma se tu vai sul anzi facciamo così ce lo puoi vedere in qualsiasi momento se vai nella pagina web ti lascio qua sotto da tutte le parti il link puoi iscriverti a un webinar gratuito che faremo tra poco e questo webinar se tu ti iscrivi non solo puoi partecipare al webinar ma puoi anche ricevere un mini corso gratuito. Nella seconda lezione di questo mini corso gratuito che è un videocorso che si chiama La spugna dell'inglese perché ti fa imparare l'inglese come una spugna nella seconda lezione che riceverai per email una volta che sei dentro vedremo esattamente questo non in teoria non spiegano di come farlo ma vedremo ti farò iniziare a parlare dal primo minuto dandoti feedback tutto il tempo e vedrai che si può fare e ovviamente è un videocorso gratuito quindi non è nulla da perderci faccio fatica a parlare italiano oggi non è nulla da perderci nel registrarti e provare è gratuito al massimo perdi gli euro che investi che sono zero comunque ancora una volta colpito il microfono chiedo scusa però evidentemente oggi sono molto maldestro comunque iscriviti a questo videocorso in più hai anche l'accesso al webinar che faremo mercoledì alle 21 quindi davvero non è nulla da perderti perderci perderci ok ma ti ricordo i 4 passi che abbiamo detto prepara discorsi già fatti registrati e aiuta anche a scrivere a mano i discorsi precedenti inizio con il computer ma poi in qualche momento trascrivi la mano innamorati degli errori so che ci vorrà un po' di tempo ma se ovviamente poi segui il punto 4 queste due cose andranno d'accordo ho fatto un altro disastro se tu trovi un metodo che ti fa parlare dal primo minuto e ti dà feedback innamorarsi degli errori diventa automatico infatti potrei anche fare sta cosa e metterla sotto il 4 boom come quinto e trova appunto questo metodo che ti faccia parlare dal primo minuto che è difficilissimo perché tutti ti insegnano grammatica tutti ti fanno fare gli esercizi tutti ti spiegano che così imparerai l'inglese anche se non parli mai l'inglese che è una cosa senza senza come dire impara andare in moto senza mai andare in moto non si può fare devi parlare l'inglese per imparare a parlare l'inglese comunque fai queste cose vedrai che non avrai più problemi nella paura per parlare l'inglese ovviamente non è una cosa che si cambia dall'oggi al domani devi ripetere questo processo per un po' di tempo quanto tempo dipende davvero da quanto intensamente lo fai e dalla persona a persona c'è gente che ha bisogno di un po' più di ripetizioni gente un po' meno però questa soluzione funziona sì o sì adesso per il video di oggi visto che siamo già quasi 15 minuti è tutto metti mi piace condividilo perché ovviamente queste cose ci aiutano molto metti anche mi piace sulle pagine seguici su youtube eccetera facebook instagram ci trovi da tutte le parti siamo ovunque siamo come non ti lasciamo mai solo ok detto questo per questo video è tutto da Fabio il tuo amico il coach d'inglese un saluto ciao ciao